E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo in un nuovo video dove siamo sul mio canale principale Dove oggi non porterò nessun gioco ma vi devo dare una notizia che vi farò vedere tra pochi secondi Ok ragazzi questo è il mio nuovo profilo su Twitch Dove ho iniziato già da domenica a fare le live su Brawl Stars Visto che siamo a 30 iscritti sul canale Youtube perché non mi venite a seguire anche qui Così almeno siamo in live su Twitch dove faremo amichevoli e tante altre cose che poi vi spiegherò Mentre starò in live, visto che siamo arrivati infatti a 30 iscritti sul mio canale Venitevi a seguirmi anche qui così almeno ci divertiamo Se volete invitare anche vostri amici, parenti vi invito a lasciare like qua sotto e di commentare Se per voi va bene, se non vi piace, anche molte altre cose Io intanto vi faccio vedere come mi chiamo E questo da oggi ho fatto il mio terzo giorno di live Però è durata pochissima perché Cioè visto che non me ne teneva tanto di fare la live L'ho messo poco però raga Dai prossimi giorni la farò che durerà molto un bel po' E niente ragazzi, questo è tutto Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate like e commentate qua sotto se vi piace questo video Oppure se hai un'idea giusta questo video che ho fatto Ciao